Io sono Francesca Pongiglione, all'epoca delle bombe avevo circa 4 anni, appartengono appunto ai miei primi ricordi perché mia nonna abitava nel palazzo adiacente a quello in cui era scoppiata la bomba di via Giacchero e mia nonna abitava in via Montenotte, nell'ultimo palazzo di via Montenotte, quindi era proprio una vicina di casa. Mi ricordo perfettamente che dalla finestra della cucina di mia nonna si vedeva la finestra della casa di questa signora e questa cosa mi aveva impressionato in quanto all'epoca telegiornali, gli attentati, le bombe ai miei erano un po' all'ordine del giorno, era un argomento che se ne parlava, si sentiva, quindi i miei ascoltarono il telegiornale e ti rimando anch'io, sentivo queste cose anche se magari al telegiornale appaiono sempre un po' distanti, invece questa che era venuta a pochi metri da casa della nonna, noi non abitavamo a Savona, però comunque frequentavamo spesso, almeno una volta alla settimana a pranzo si era lì e quindi è una cosa che comunque mi è rimasta come dire cavolo ma allora succede davvero e a un passo da un luogo conosciuto, da un luogo comunque che ritieni sicuro, tranquillo. Poi per il resto non è che avesse influito più di tanto sulla vita familiare, anche perché comunque la gente che aveva passato la guerra ne aveva già viste di ogni colore, quindi questa era solo una cosa in più forse, per cui non li aveva più di tanto sconvolti, se non ovviamente il dispiacere, poverina, questa signora che mia nonna conosceva, perché comunque abitavano vicine, sapeva chi era e che era morta così tragicamente, ecco, una cosa un po' strana, perché una casa non si aspetta di vedersi scoppiare la bomba del portone, ecco, è una cosa che resta un po' particolare. Mia nonna, vabbè, era una che si prendeva sempre molto a cuore sulle disgrazie delle persone e quindi profonda pena per questa signora, appunto coinvolta, suo malgrado in questo avvenimento che era una persona assolutamente banale, diciamo comune, che era stata coinvolta in un avvenimento che comunque per Savona è stato sconvolgente. Peraltro poi, a parte il riferimento diretto a questa persona, non è che più di tanto, forse si diradava leggermente magari la discesa Savona, noi abitavamo fuori, quindi magari si stava un po' più attenti, però neanche poi più di tanto, ho chiesto un po' anche ai miei, conferma, perché io appunto ero molto piccola, ho dei ricordi un po' nebulosi, un po' forse anche riportati da quello che poi si è sentito in casa anche successivamente, però poi più di tanto non è che, insomma, mi ricordo che poi c'erano gli scotch alle finestre nelle scuole, quando io sono andata poi al liceo, ancora erano passati una decina d'anni, c'era ancora lo scotch sui vetri, per lo scotch a croce, come in tempo di guerra, ecco, facevo un po' impressione in effetti, perché anche se ormai lo scotch si stava sfarinando e staccando, però era ancora uno strascico di questa situazione, il fatto che non l'avessero mai tolto mi venne da pensare che forse temessero che prima o dopo, visto che gli anni che erano passati, nel frattempo non erano stati proprio dei più tranquilli, ecco. Questo, insomma, mi è rimasto comunque impresso, perché vedere dalla finestra, la finestra di una persona che è rimasta coinvolta in un attentato, che poi non si sa neanche bene quale fosse stato il motivo, perché non è che in quel palazzo abitasse chissà chi, che poteva essere vittima, eccetera, nulla, quindi, cioè, poteva accadere a chiunque, ecco, assolutamente a chiunque, in qualunque portone di Savona, senza altro, ecco. A Savona, secondo me, hanno voluto dimenticare questa cosa qui, è stata un po' messa da parte, col fatto che non si sia mai capito esattamente la matrice, molte idee, ci sono state teorie di vario tipo, eccetera, però non se ne è mai parlato tanto, è sempre rimasta un po' da... come se si volesse dimenticare, secondo me, come se non si volesse andare a scavare troppo nella memoria, nelle situazioni delle persone, ci è stata messa una pietra sopra, ecco. Eh, perché? Chi lo sa? Non saprei, ecco. Uno può pensare male, nel senso che potesse essere coinvolto qualcuno magari di... importante, ok, quindi... Oppure, semplicemente, i savolesi, siccome sono notoriamente un po' stundai, va bene, insomma, è passata, e... andiamo avanti e cancelliamo. Non saprei, ecco, sinceramente non saprei, perché comunque sono fatti che appartengono a noi, ecco, alla nostra storia, in qualche maniera. Se io così piccola, comunque, questa cosa mi aveva impressionato, perché mi aveva catapultato in un mondo che finora, fino allora, era soltanto così televisivo, da telegiornale, ma, insomma, i bambini, poi il telegiornale lo ascoltano con mezzo orecchio, voglio dire. E no, ritengo, per esempio, che mio figlio, ma anche io da insegnante, a volte capita che ai miei studenti, anche insegnando tutt'altro che tutt'altra materia, però che magari, chiacchierando, escano fuori le cose e che quindi si raccontino questi fatti. Mi ricordo, poi faccio, insomma, la figura della vecchia Barbogia, mi ricordo tanti anni fa. Però, secondo me, sono cose che si devono sapere, perché comunque fanno parte della storia del luogo in cui viviamo, ecco. Mi sembra giusto.